ma tu se vai da uno scarpare a comprare un paio di scarpe quando tu entri ti dici mi dico un paio di scarpe marrone 40 sì o no? e cioè ma perché da me no? e allora sono interessato mi dico un paio di scarpe che numero? 40 ma gli devi tirare la roba dalla bocca coi brillantini sì coi brillantini chiaro nero chiaro basso alto basso ok quando è che ci vediamo e non mi rispondono più cioè ma secondo te io posso fare questo tutta la giornata tutta la gente ma io non capisco